Si appresta a raggiungere quota 400 la raccolta di firme che attraverso la piattaforma change.org proverà a rendere eterna la memoria del professore Giulio Boiano, docente di latino e greco fino al 1990 al liceo Tasso di Salerno. Il professore Boiano è scomparso nel 2017. Sono stati i figli Lucio, Giancarlo ed il giornalista Gabriele a farsi promotori dell'iniziativa per intitolare una strada di Salerno, raccogliendo le sollecitazioni dei numerosi alunni del professore precursore di un metodo di insegnamento innovativo. Gabriele Boiano, quella che era partita come un'iniziativa di affetto nei confronti e in memoria di suo padre è diventata una sorta di gara perché sono in tanti che si stanno portando sulla piattaforma per poter firmare la petizione in cui la sua famiglia chiede di intitolare una strada a papà. Sì, è un'iniziativa che è partita in modo spontaneo, favorita anche da un momento particolare a Salerno perché stiamo assistendo a una rivoluzione urbanistica, stanno nascendo nuove strade, nuovi agglomerati residenziali e quindi c'è l'esigenza anche di intitolare nuove strade. Quindi partendo proprio da questo dato di fatto, ho pensato con i miei fratelli Lucio e Giancarlo di avviare questa raccolta di firme per ricordare un professore che per circa 30 anni ha insegnato al liceo Tasso di Salerno e che è un po' rimasto nel cuore di tanti ragazzi, di tanti dei suoi ex allievi. Qualcuno sta dicendo però sono tanti i professori che potrebbero essere ricordati, a questa critica che cosa si può rispondere? Sicuramente, sicuramente, infatti io penso che proprio la categoria dei professori si è stata un po' negretta in questa città perché se andiamo a vedere in giro non ci sono molti professori salernitani sui nomi delle strade. Penso dal preside russo, Antonio Russo per esempio, oppure ultimamente è stata intitolata una strada all'ex rettore Vincenzo Buonocore. Però credo che noi partiamo da un attenuante, insomma, il fatto che siamo figli e quindi siamo stati mossi da un desiderio di affetto, di amore per il nostro padre che è scomparso nel 2017. È ovvio che tanti altri docenti salernitani meriterebbero delle strade intitolate e quindi bisognerebbe avviare un po' anche una ricognizione dei meriti scolastici. Ci dica la verità, ha individuato già una possibile strada? No, no, questo lo lascio fare al comune. Certamente sarebbe bello se fosse una strada o nei pressi di casa dove abitavamo, quindi zona via Clark, oppure nei pressi della scuola. Però lì credo che sia un po' difficile perché le strade sono state già tutte assegnate ormai da decenni. Chi volesse aderire, allora ricordiamo come deve fare. Sì, c'è la piattaforma change.org che fa proprio questo di mestiere, diciamo, le petizioni, raccoglie le petizioni. Però quello che vorrei sottolineare è che bisogna stare molto attenti a completare tutto il ciclo della firma perché soltanto quando la petizione ti dice fatto, contanto di punto esclamativo, allora la firma è andata in porto. Altrimenti molti credono di aver firmato, però la firma non è stata data. Quindi se volete, se avete ancora dei bei ricordi legati al professore Boiano, vi invito a firmare e vi ringrazio. Grazie.